Unità immobiliare, autovetture, quote societarie di compendi aziendali, pizzerie, rosticerie e conti correnti, il tutto per un milione di euro. È diventata definitiva la confisca di beni nei confronti di Emanuele Sicolo, pregiudicato di Bitonto nel Barese, ritenuto vicino al clan mafioso Parisi. La sentenza di confisca emessa dalla Cassazione ed eseguita dagli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Bari, conferma la misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale del Capoluogo nel settembre del 2019. Gli accertamenti della DIA hanno documentato il profilo di pericolosità sociale di Sicolo, oltre alla individuazione degli asset patrimoniali e finanziari riconducibili a lui e la sua famiglia, ritenuti proventi di attività illecite perché è emersa l'ampia sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale. Sicolo, spiega una nota della DIA, è stato riconosciuto come soggetto connotato da pericolosità sociale in ragione dei suoi numerosissimi precedenti per reati violenti o commessi per ragioni di profitto, nonché per una condanna per associazione mafiosa. Di Sicolo, i giudici evidenziano che la propensione a delinquere appare strutturata e costante in un lungo arco temporale. Il periodo di indagine copre infatti l'arco di un decennio. Sicolo, di recente, è stato arrestato ed è tuttora a processo nell'inchiesta della DIA di Bari Levante su presunte maxifrodi fiscali e ipotesi di reciclaggio che coinvolge anche avvocati e imprenditori.